Si è purtroppo conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della scomparsa di Luciano Ragozza di 67 anni uscito dalla sua casa a Pieve Vergonte per un giro sulla sua amata bicicletta il 20 gennaio scorso e mai più ritornato. Per mesi la moglie e il figlio hanno lanciato appelli anche tramite il programma Chi l'ha visto. Numerose sono state le ricerche da parte di soccorritori e di volontari, oltre alle segnalazioni giunte tutte le piste si sono però rivelate infruttuose. Questa mattina in località Pianezzo a Pieve Vergonte è stato visto in un dirupo il corpo senza vita di un uomo. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda e da Verbagna. La salma è stata recuperata dal SAGF di Domodossola con i vigili del fuoco e il soccorso alpino civile. Purtroppo si trattava proprio di Ragozza. Sentita la procura, i militari hanno già rimesso a disposizione dei familiari la salma.